Buongiorno ragazzi sono Erry Lazio e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Oggi signori siamo qui tornati in Villa Elitz Oggi ragazzi c'è un ospite speciale ovvero Ivan è venuto a trovare Ivan! Adesso ritorno Ed oggi come avete visto faremo il gioco dei mimi versione Euro 2024 Quindi dovremmo andare ad imitare i giocatori che partecipano al torneo Tramite o delle risultanze che fanno in particolare O facendo capire il nome in base al mimo che facciamo insomma Abbiamo due giocatori a testa da imitare Chi indovina ovviamente più giocatori vince la sfida Chi vuole partire ragazzi? Parto facile ok? Intanto ci vediamo il mio nuovo attuaggio Chi ha questo attuaggio? Ditelo nei commenti Uno, due, tre Oh c'è troppo Dino Renzi Sono troppo bello Bellingham Antò? Eh vabbè Troppo facile Hai aiutato mio E ho capito Antò? È giusto? Sì Bellingham Sì C'è stato stato Guarda dove ce l'ha? No 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 Questo è di uno youtuber Non è di Bellingham Ma come è di youtuber? Eh sì Come non lo conoscete? Dai Cazzo 19 19 7 Gira un po' Gira Eh vabbè ma lo conosciamo anche Vabbè Ditelo nei commenti Antò visto che hai indovinato È il tuo Cazzo Vi siete? Vai Antò Sì Sì tu Nella Spagna Ok Ah si è infortunato sempre No Allora è della Germania Molto debole Bellingham Mirko Molto debole Mirko Si è fatto male Si fa male spesso Si fa male Un tedesco si è fatto male Gozze Schurle Musiala Royce Due A due doppio nome Due Ah ok Ok Si è spessato in due No 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 è il nome in due No No De Winter Schiavia Luzzo Si Io Sì Lo stemmo Eh sì È tedesco Tedesco Ah si è rotto tutti due le leggi No Royce Arm Neuer Lamb Non so perché Stai a vita L'ho capito È perché Dera Germania Ok Germania Germania È divisa in due il nome È divisa in due È tipo de qualcosa Deutsch Ok Ah Ger Sì Germigno Ger Gerard George Facciamo una cosa più facile È sempre il solito eh Müller Sané Che cazzo è Pensate al nome Al nome Eh non è facile Nicco ci è andato vicino Ma il nome è sulla maglia O il nome Il nome del calciatore A Paredes A Xavi Alunzo Ok Di Bala Maglia Maglia Ginocchio Logo Spagnolo Logo Che è così logo Xavi Hernandez Spa Xavi Spagnolo Teo Hernandez Pensate alla spagnola Spagnola vi aiutate Ok pensate al cognome Xavi Alunzo No al cognome Quello che sto mimando Gerard Moreno Dolore Meduele Quindi se hai dolore Che dici? De Maglia Male Oc Mal Male Male De Male Ronale Ero Re Male Poblo Marine Male Yamaal 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 Era si in tedesco Yamaal 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 Era un po' complicado Cantante, rapper, Leao, Gollini, Leao, perché guardateci? Perché doveva scendere il microfono, che cazzo è che? Vai oddio, vai Harry, perché Leao però, che canta? Due, due nomi, composto, ha fatto un incidente? Si, con una macchina grande, drive, verde, macchina grande Furgone, è composto comunque, van, van, dik Van, dik, due punti per mister, faccio una facile facile Vado, ah no, 2020, 4 euro, 2024 Scalvini, dillo, dici, dici, dici Morto, come morto? Non sono morto, fai fortunato, dai, vanera, bravo 2 per me, raga, eh Penso, tink, tink water Ok, scaccio, ha vinto, ha vinto agli scatti Alla partita scaccio alla dama Portogale, eh, Ronaldo, perché ha fatto una cosa con Messi Messi, caccomatto, giocanta vincente Che hai detto? Schambacca Noooo Ma io faccio partenza degli assist E' andato, indovina Questo era All'istante lo voglio, eh Vai Ronaldo Messi Capello Riccio Riccio Ricci Ricci Questo lo voglio all'istante, eh Sì Vape Vape La coppa, è una coppa questa Ah, una coppa Coppa del mondo Un giocatore che ti piace tantissimo Ha vinto la coppa del mondo L'europeo L'europeo, ha vinto l'europeo Non ha vinto No Vincerà 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 un pallone d'oro Modric Ha vinto Modric Eh, pallone d'oro Ma è vero, il pallone d'oro è anche usci Così 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 Spirito Jack Grealish Cantante Canta Conte Cante Brava, quanto Ma non gioco più in mondiale Ma almeno sei stato convocato Stato convocato Stato convocato No, vabbè Rana Quattro lettere Rana Quattro rane Quattro Toca fuor Oca fuor Non è la razza No, è tocca subito Sono troppo forte a fare il mimo Cioè Rigore Fabio Grosso Art Porta La porta Non la prende mai Dopo Sergio Ramos Ha preso un tifoso in faccia la porta porta è un portiere porta ci faccio in me pickford è un portiere? Gianluigi Donnarumma ma gnan porta no porta no libri ah nel 7 ah papera 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 Donnarumma ma ci faccio in me ancora sta porta ok dentro la porta ah l'arbitro oh questa è la difficile bravo Harry prega di Maria chiesa bravo bravissimo viva nessuno lo sa però nessuno lo sa ma gioca l'europeo riparmi nessuno lo sa 0-25 ce l'ho dovete ingegnarvi qua eh vai ok Messi e fine qua 3 Messi 3 Messi 3 1-2-3 tripletta ha fatto una diversa come Messi 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 che cazzo è pedro pedri siiii bravo Tati insomma non sapevo cosa fare immobile gnonto di Lorenzo immobile un palo che è statua piramide Stato della libertà Uno altissimo Difensore Altissimo Ma che cosa stai facendo? Torre grossa Mertesager Aspettate Aspettate Ok Ok vai Ferro Ferri Ferro Ferrero Torre di ferro Ferran Torres C'è Codo Codo Terase Cane cane Caprile Gatti Cain Catti Ma il gatto con la lingua fuori Fa caldo Allora il gatto che ce la lingua Col cazzo Ce l'ho Ce l'ho Facciamolo insieme dai Ma che cazzo Vai subito Girella Girù Rovella Giro Giro Trapunti andiamo Questo è difficile Vai Allo un serpente Miscia Striscia Periscia Palo Pallina Pallina Biglia Allora Cinque Five E' un insetto Toglia Striscia Verme Striscia Vermeelen Vermeelen Mano Vermano Verma Striscia mano Mertesachie Vermand Vermano Striscia Mano Vermano Vermen Vermeelen Vermeelen Vermanon Vermeelen Vermut Vermeer 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 Se ha vinto uno tra Mr. O'Fuse Io ho fatto tre Fate sapere questo nei commenti Ditecelo voi Come sempre amicizia Basta dal canale ragazzoli Qui sono in iscrizione Che questi giorni usciranno Anzi questo è stato Usciranno un sacco di video assieme Detto questo Noi ci becchiamo Ad un prossimo video Ciao Ciao ragazzi